Un trampolino di lancio I fratelli dello spazio attraverso Wanda, Albano, 11 maggio 1998 a cura di VB Salve, diamo avvio a una fusione di energie che vibrando si uniscono in un unico sentire, l'amore Vedi, cara sorella, non possiamo prendere in considerazione le tue domande perché non ti possiamo rispondere Non siamo incaricati di spiegarvi le ragioni del vostro comportamento nella vita umana Siamo essere il cui compito è di farvi crescere e sviluppare l'amore riguardo alla vita spirituale ed eterna Dobbiamo far emergere dal vostro intimo l'appartenenza alla vera vita Purtroppo voi avete molto sbagliato e non soltanto riguardo al cammino spirituale ma anche nella vita umana perché vi siete appropriati di un pianeta che vi era stato donato per amore e per svolgere il compito di evoluzione necessario alla crescita e al perfezionamento del vostro procedere Fratelli, voi avete frainteso quale dovesse essere il vostro modo di comportarvi poiché non avete capito che la Terra era ed è soltanto un trampolino di lancio su cui fare le vostre esperienze sia negative che positive per poi rientrare nel tutto Dovevate riportare la vostra essenza allo stato puro Dopo la piccola intrusione ora riprendiamo Ti stavamo facendo notare il comportamento umano che ha trasformato un dono in un possesso La Terra era il vostro paradiso e camminando sul suo suolo con rapidità avresti dovuto raggiungere il traguardo Ti stai domandando perché non ci siamo riusciti Ti rispondiamo perché anziché innalzarvi vi siete impadroniti della Terra usando le violenze e così facendo siete diventati Terra ma con un peso forse maggiore del suo E questo è il vostro calvario Ora dovete faticare per risalire di nuovo Il compito è diventato più arduo e pesante ma per voi era necessario questo bagno di Terra per riuscire a distinguere il bene dal male Male è soltanto una parola umana perché nel regno della luce cosmica non esiste c'è unicamente l'amore e le esperienze che si devono compiere per comprenderlo Date maggiore spazio al vostro essere animico perché l'anima e la coscienza sono in collegamento con la scintilla pura quella piccola luce che è una parte infinitesima della grande luce è come se vi dicessero siamo dentro di te perché tu appartieni al tutto infatti voi portate nella vostra essenza il segno della vostra appartenenza Trovi astruso il nostro discorso e forse non è necessario parlarne se siamo una cosa sola infatti se siamo ed apparteniamo al tutto allora a che serve parlarne? È necessario invece perché l'umano il più delle volte dimentica la sua appartenenza Gli uomini e non siete i soli hanno frainteso il dono ricevuto in un palpito d'amore travisando così lo scopo della loro missione del loro coinvolgimento per mantenere l'equilibrio del cosmo sempre in perfetta armonia Non c'è niente di sbagliato nel cosmo perché i piccoli sbagli vengono da chi non ha recepito bene il messaggio e il compito affidatogli